Questo è Victor, un gattone europeo adorabile come tanti e questo è Mikael che no. Di lasciarlo in un gattile manco se ne parla e lo ha voluto imbarcare su un volo a Aeroflot da Riga a Vladivostok con scalo a Mosca. Solo che al check-in è risultato un peso di 10 kg, 2 di troppo per portarlo con sé in cabina. Victor, nella stiva, Mikael non lo voleva proprio lasciare, sicché ha trovato un gatto quasi identico ma un po' meno grasso. Lo ha fatto passare al check-in e poi lo ha restituito ai suoi proprietari in cambio di Victor, forse che l'ormai insospettabile Ciccione ha viaggiato tranquillamente in cabina. Se ne è poi vantato sui social network, Aeroflot non l'ha presa molto bene, gli ha cancellato tutti i punti nel programma fedeltà, come ha spiegato la portavoce della compagnia. Lui invece l'ha presa bene, la legge è legge, dice ho infranto le regole, hanno diritto di reagire come ritengono giusto. Un esperto di aviazione dà a sua volta ragione alla compagnia aerea, si tratta anche di questioni di sicurezza, dice. Victor su questo è un po' meno d'accordo, io una minaccia alla sicurezza, al massimo mi faccio le unghie sui sedili.